I prezzi sono cambiati solo per questo periodo in cui c'è un'esposizione in corso, poi i residenti del comune di Arezzo torneranno ad entrare gratuitamente. Così Lorenzo Cinatti, direttore della Fondazione Guido d'Arezzo, fa chiarezza sul tema delle tariffe di accesso alla Fortezza Medicia dopo che c'erano state alcune polemiche in seguito ad un post sui canali social della stessa fondazione. Fino al 23 di agosto i visitatori potranno godere anche di Willow perso nel giallo del vento, una mostra di arte contemporanea curata da Fabio Migliorati. A questo si deve il cambiamento dei prezzi, annunciato appunto sulle pagine social della Fondazione e sul loro sito, in realtà entrato in vigore a fine giugno quando l'esposizione è partita. In occasione di mostre, come per gli anni passati, l'ingresso alla Fortezza è a pagamento, 8 euro intero, 4 i ridotti. Una volta terminata la mostra e in assenza di ulteriori eventi, l'accesso in Fortezza tornerà gratuito per tutti i residenti nel comune di Arezzo.